Altra grande figura legata al neoplatonismo di età moderna è Marsilio Ficino, che fu tra l'altro molto attivo come traduttore e infatti si deve proprio a lui la traduzione in latino di Platone e Plotino che Ficino ha così presentato alla cultura occidentale. Marsilio era figlio del medico di famiglia di Cosimo dei Medici e fu lo stesso Cosimo a capire che Marsilio fosse un giovane intellettualmente molto dotato, tanto che nel 1462 gli fece dono di una villa vicino Firenze, la villa di Careggi, invitandolo a creare all'interno della villa un'accademia platonica e dandogli di conseguenza la possibilità di vivere di rendita purché traducesse tutto Platone, autore del quale gli umanisti fino ad allora avevano conosciuto solo ed esclusivamente i dialoghi della giovinezza, mentre i grandi dialoghi teoretici della maturità erano ancora poco conosciuti. Marsilio Ficino nel 1477 porta a termine questa gigantesca opera di traduzione di Platone dal greco al latino e poi si concentra sugli scritti di Plotino, traduzione che Marsilio concluderà nel 1485. Sulla base di questo immenso lavoro di traduzione Ficino elabora una filosofia strettamente collegata tanto al neoplatonismo quanto al neoplatonismo, ma vi aggiunge qualcosa in più di molto importante. In effetti Marsilio, oltre a questi due classici greci, traduce anche il corpus ermeticum, cioè un complesso di testi del III secolo d.C. che si credeva però fossero stati scritti nella Grecia arcaica per mano del leggendario Mercurio Trismegisto, che in greco significa tre volte grandissimo. Mercurio Trismegisto è più che mai un personaggio leggendario di età arcaica, venerato come sapiente tra i sapienti e fondatore della filosofia nota come ermetismo. Ora Marsilio, traducendo Platone e Plotino, li inserisce come rappresentanti tardivi di un ermetismo facente comunque capo per una serie di vicende alla sapienza egizia e completa il tutto dedicandosi anche agli oracoli caldaici, riferiti alla sapienza babilonese e attribuiti a Zoroastro. Quindi l'opera di traduzione di Marsilio è finalizzata a rilevare, sulla base delle affinità fra questi testi, un concetto di unità della cultura che lo avrebbe poi portato a scrivere il suo capolavoro, ovvero la teologia platonica o teologia platonica, opera che reca un titolo a questo punto molto significativo, in quanto si riferisce a Platone ma anche alla teologia cristiana, a supporto di quell'unità famosa di tutta la cultura nota ai suoi tempi. A partire da Ermete Trismegisto, personaggio mitico delle origini della civiltà greca, passando per Pitagora, per l'Oriente, per Platone e poi per Plotino, Marsilio evidenzia il crescere e lo svilupparsi di una dottrina che poi ha trovato nel cristianesimo e nella figura di Gesù Cristo, nello specifico, il suo compimento. Eugenio Garen ha infatti sottolineato a tal proposito come il Logos abbia parlato prima ai pensatori greci e poi si sia rivelato pienamente in Cristo e questa è l'idea fondamentale della teologia platonica di Marsilio Ficino. Il quarto Vangelo, quello di Giovanni, reca appunto le famose parole che in principio c'era il verbo, en archè en ho logos, in greco verbum e logos, il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Nella teologia platonica sembrerebbe pertanto emergere che tra la filosofia greca e la rivelazione cristiana non sussista, come dice Garenne, una frattura, ma al contrario filosofia greca e cristianesimo sembrerebbero due momenti complementari di una stessa manifestazione del logos, a sostegno dunque dell'unità di tutta la cultura. La teologia primitiva originaria che si è sviluppata a mano a mano nei vari filosofi è culminata in Cristo e questo significa secondo Marsilio che si può parlare di una pia filosofia, una pia filosofia, nel senso che la filosofia non è semplicemente la ragione umana ma è anche religione, da pietas che in latino significa attaccamento agli dèi. La filosofia è pia in quanto religione e la religione partecipando della filosofia è di conseguenza dotta da cui la docta religio. Ficino infatti associa pia filosofia e docta religio perché c'è una simmetria tra l'una e l'altra. La religione è dotta perché non è solo rivelazione ma anche riflessione dell'intelletto umano, non è solo fede ma è anche impregnata di ragione. La filosofia dal canto suo non è soltanto sforzo razionale ma è anche animata da pietas dunque non è in contrasto con la fede a riprova annesima dell'unità tra le culture e soprattutto dell'unità fra religione e filosofia.